Ciao Belloni, quest'anno torna di moda il presepe vivente, ma tu cosa faresti nel presepe vivente? Vorrei fare lo spirito santo! Non voglio fare la fegola! Anche perché fare ti venga da Dio! Beh, beh, beh! A me piacerebbe fare la Madonna! Sì, ma ti manca qualcosa, mi sa! Il velo! No, la virginità! Io farei l'uccello! Perché sei sempre bagnata! Ma f***o! Io farei Mr. Anakin, il remaggio che portava la birra! Ma dai, bella camicina! Viena presto che a fare una figura di merda! Non ho capito un caso! Guarda, sono diventato! Nel presepe voglio fare la vacca! Ma per quello non ti è mai servito il presepe! E che devo fare nel presepe? Io posso fare il muscolo, non mi lavo dall'85! Voglio fare l'asino perché così sto bene vicino a Maria! Così mi dice il nuovo vincitore di Amici! Non voglio fare il Giuseppe! Quello c'ha un figlio che non sa di chi è! Io e il Gerrere, immagino di terra sulla copena! Come? Con la lingua! Che denti giallo! Compari galliani! Eh, eh, eh! Ho cambiato di terra un'altra volta! Voglio fare la grotta! Perché dentro di me non si è più tanti! Sì?